Questo l'ho visto, mentre stavo dietro a Vito Iagono, era venuto al ristorante a parlargli. In effetti non è una faccia nuova, mi è già capitato sott'occhio. E' schedato? Credo di sì, ma non nei nostri elenchi. Aspetta, vediamo sul sito dell'Interpol. Vediamo un po' che esce. Allora, vediamo le immagini. Eccolo qua, avevo ragione, vedi? Sì, lo conoscono bene il nostro amico. Si chiama Vladimir Kovansky, è un ex ufficiale del KGB ed è ricercato dal 2001 con molti amicili sulla coscienza. Grazie a vostro. Ora sappiamo chi ha ammazzato Gaeta Norata? Sì. Avete visto il colonnello? È uscito. Perché? Ho appena chiamato la direttrice della scuola. L'ha chiamata Teresa Iacono. Margherita è stata ricoverata in ospedale per un malone. Ma che ne è successo? Niente di grave, tu va da lei. Io devo trovare il colonnello. Chi è questo? È il killer soldato di Vagli Iacono. La foto ce l'ha mandata proprio stamattina il terrente Passanti. Ma che è successo?